A Zafferana Etnea sarà il prossimo 25 maggio Alfio Russo contro se stesso. Il Tar di Catania ha infatti rigettato nella giornata di ieri il ricorso di Alfio Barbagallo, ex consigliere provinciale e candidato sindaco escluso, ed è la sua lista di riferimento Zafferana nel cuore. Il Tribunale Amministrativo Etneo ha dato ragioni alla Commissione elettorale del Comune di Zafferana. Non c'erano sufficienti firme autenticate a sostegno del progetto civico di Barbagallo. E adesso il 25 maggio si apre una partita strana e anomala. Il sindaco uscente Alfio Russo dovrà contrapporsi all'avversario più difficile che si possa avere in questo preciso momento storico, vale a dire l'astenzionismo. Per essere rieletto al russo servirà l'avallo del 50% più uno degli aventi diritto al voto.